Se no sta cercando altri voti lo dobbiamo trattenere, è la concorrenza interna, dobbiamo trattenerla. Ho già unito di questo, sempre votato, sempre questo che compra, compra la carne, la carne viva, è gente che si vende proprio. Credo che occorra, anziché bisogno, votata la federazione. Scusami, tu voti Massimo Arezzo? No, io voto a quarto. La Refondazione Comunista ha sempre il suo bezzoccolo duro, certo che vuole incrementato, però di gente che ha quegli ideali, quei valori. Ragazzi, scusatemi, scusami, vi volevo chiedere il carisma di Massimo Arezzo. Un carisma perfetto. Grazie. E io no. Oggi, due! Due un po' disgiunto, fate la dov'è. Ma no!! Eh, guarda che questo sa! Questa la dov'è! Non lo sa il mio! Ma non è fatto, firmalo! Sei una verruca! Ma il mio compagno è superiore, che come abbiamo a mirnare! Collegio di garanzia. Collegio di garanzia immediato! E me lo hanno detto urlando! Collegio di garanzia!? Ma che compra le ho? Che cosa ti c'è?! è bene che sono un po' capitale mi rivolgo ai giovani perché gli anziani ormai mi hanno definito però sempre combattere faccia e martello sempre sempre scusami tu perché voti Massimo Aresu?